Cinque, cinquanta, tornante destro, chiude, sinistra quattro corda a cartello, sinistra quattro, piena, duecento, tornante sinistro, che avevo messo la cosa, Amunari tornante destro, venti, destra tre meno lunga, chiude, ritardo, sinistra tre lunga, duecento, Amunari tornante sinistro, cinquanta, tornante destro, venti, destra tre, sinistra tre meno, chiude, chiude, duecento, sinistra quattro, piena corda, centocinquanta, ai cartelli destra quattro meno, chiude, duecento, vista, ai cartelli destra tre meno meno, in sinistra tre meno meno, corda, subito destra, due lunghe, tutte scivola, cinquanta, sinistra quattro, venti, a cartello sinistra tre meno lunghe, chiude corda, subito destra tre meno meno, ritarda molto a rail, destra tre meno lunghissima, due tempi, gira, in destra quattro, piena corda, in sinistra tre corda, in destra tre meno, chiude, in sinistra quattro, piena, cinquanta, a rail, ritarda, molto sinistra, diventa tornante sinistro, chiude, tre meglio, destra tre lunga, in sinistra quattro, piena corda, in destra quattro, lunga, piena, venti, a rail, sinistra tre meno, chiude, corda, in destra tre meno meno, in sinistra tre meno meno, chiude, chiude, subito tornante destro, 20, destra 3, in sinistra 3 più, 20, destra 3 meno chiude in sinistra, 4 piena corda, 100 vista, a Ray, destra 3 meno meno corda, 10 tornati, sinistro chiude, fine, 200 vista, vediamo belli puliti, destra 4 piena, 200, da Cartago sinistra 3 corda in destra 3 meno corda, in sinistra 3 meno chiude, 50, tornante destro, 50, ritarda, sinistra 3 corda per destra 4, andiamo a 200, ritarda molto, destra 4 lunga piena, 200, ai Munari sinistra 2 lunga gira chiude, in destra 3 più, in sinistra 4 piena corda, in destra 4 piena corda, a Ray, ritarda, destra 3 meno meno lunghissima, subito a sinistra 2 più lunga chiude, chiude, scivola, in destra 4 piena, 50, a Ray, ritarda molto, tornante destro, per sinistra 3 lunga, andiamo a 100, ai Cartago in ritarda molto, destra 2 chiude, chiude, 50, sinistra 3 più lunghissima, a 2 tempi, apri 4, andiamo a 100 vista, e molto attenzione Munari, tornante a sinistro, poi andiamo a 200, ritarda molto a destra 3 lunga e chiude, 200 vista, ai Cartago in ritarda, sinistra 3 meno meno chiude, seconda, 20, sinistra 3 meno meno chiude, chiude, 20, destra 3 corda, 20, tornante destro freno, per sinistra 3 lunghissima, diamo a 20 a muro, destra 3 meno, 3 meno, in sinistra 3 più corda, subito a destra 3 meno meno lunga chiude, chiude, in destra 3 più lunga, 2 tempi, chiude, subito tornante sinistro, bravo, 5 meglio del primo passaggio, andiamo a 200, sinistra 4, 200, a ritarda a Cartago, sinistra 3 meno chiude, chiude, ritarda molto, destra 3 lunghissima, 2 tempi, corda, subito, sinistra 3 meno meno corda, in destra 3, in sinistra 4 corda, 100, ai Munari, tornante destro, poi andiamo a 200 vista, dai fuori, a me, sinistra 3 meno corda, in destra 3 meno meno chiude, chiude, in sinistra 3 lunghissima, 2 tempi, 100, ai Munari, tornante sinistro, chiude, chiude, 50, ritarda molto, diamo a destra 3 meno meno corda, in sinistra 3 lunghissima, in destra 4 lunga, 2 tempi, corda, al muro, destra 3 meno meno corda, subito tornante destro, chiude, chiude, 50, andiamo a Cartago, sinistra 3 più lunga, 50, ritarda, sinistra 3, sinistra 3 meno meno lunga, chiude, chiude, 50, destra 4 pieno corda, in sinistra 4 pieno corda, 100, a vista, sinistra 3 meno lunga, 20, ritarda, destra 3 meno meno, chiude 3 volte, in sinistra 3 lunghissima, chiude, chiude, 20, ritarda, destra 3 corda, chiude, in sinistra 3 più corda, in destra 3 meno meno lunga, chiude, in ritarda molto, destra 3 meno lunga, chiude, 50, a vista, sinistra 3 lunghissima corda, in destra 3 meno, 20, al cartello, sinistra 3 meno lunga, chiude, chiude, sotto, bravo, senza rivolto.